Per me punk oggi è spegnere il computer. Prendere sul serio lo studio invece di lamentarsi che in Italia le cose vanno male senza far niente. E andare in bicicletta a gennaio sfidando il freddo. Punk oggi è non vivere in città e buttare via i cellulari. Punk è fare sempre comunque quello che si crede giusto. Punk oggi è avere lo stipendio. Secondo me punk oggi è avere una reflex e saperlo usare. Well, I'm not sure about punk, but counterculture is culture. Per me punk oggi è non avere la patente. Venire al lavoro per due mesi senza essere retribuita. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.